Appello di terre ioniche alle istituzioni, subito l'ordinanza per decretare lo stato di calamità nel Metapontino. Il 29 novembre scade l'ultimatum lanciato al Governo nazionale e alla Regione Basilicata dal Comitato Difendiamo le terre ioniche rispetto all'emanazione dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione dello stato d'emergenza dopo l'alluvione del 7 ottobre scorso. Oggi ennesimo passaggio intermedio del Comitato per rilanciare l'appello al nuovo Governo regionale lucano. I particolari da Luigi Di Lauro. Prima di tutto rispetto per le vittime della Sardegna e vicinanza alle tante famiglie e aziende che come noi hanno dovuto subire la violenza della natura che in poche ore ha lasciato dopo il suo passaggio morte e distruzione. Sono le parole del portavoce del Movimento Difendiamo le terre ioniche Gianni Fabris che questa mattina all'indomani dell'elezione del nuovo Consiglio regionale della Basilicata nel corso di un incontro con i giornalisti ha rinnovato le richieste degli alluvionati lucani a 45 giorni dal 7 ottobre a circa mille giorni dall'alluvione del 2011. Commissario unico tra Puglia e Basilicata per la gestione dell'emergenza e ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri con provvedimenti per il territorio e le aziende colpite ma soprattutto una richiesta precisa al nuovo Presidente della Regione Basilicata. Vogliamo certezze, vogliamo che il Presidente della Regione Basilicata oggi compia nelle prossime ore i due atti che sono fondamentali prima di tutto la certezza che ci siano le carte al Governo perché venga dichiarato lo stato d'emergenza che in queste carte ci sia una perimetrazione dell'area certa, non gonfiata chiediamo copia della documentazione soprattutto chiediamo al Presidente Pettella di mettere sul tavolo soldi, risorse vere servono almeno 50 milioni di euro che la Regione Basilicata ha fermi fra i 500 milioni di euro che tiene ferme delle royalties del territorio le metta sull'alluvione almeno 10 milioni di costi vadano a risarcire i danni alle persone e le attività economiche che sono ormai in ginocchio. Grazie